Il mercato è statico, di recente si sono venduti solo piccoli appezzamenti ma i costi dei terreni agricoli nel territorio di Bolzano sono saliti comunque alle stelle. Secondo i dati del CREA, il principale ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari, il valore dei terreni di Fondovalle a Bolzano è aumentato del 150%, arrivando fino a 250 mila euro per ettaro. Sono aree coltivate per lo più come meleti, sulle pendici invece prevale l'uva e anche lì i prezzi sono schizzati. Abbiamo venduto recentemente un vigneto di inizio produzione nell'immediato confine tra Bolzano e Cornaiano a circa 100 euro il metro quadrato. Ovvero un milione per ettaro e di ettari tra vigneti e meleti nel comune di Bolzano ce ne sono più di 700. Non va meglio in provincia, per la federazione degli agenti immobiliari dal periodo del covid ad oggi i prezzi medi dei terreni in tutto l'alto adige sono aumentati dell'11%. Nel settore c'è preoccupazione per il futuro, i numeri non accennano a diminuire.